No, no, gelato, non funziona, non funziona, bisogna parlare, intanto, al centro, eccomi qua, perfetto, dai funziona, buonasera a tutti, benvenuti, grazie alle nostre ballerine che in due minuti e mezzo ci hanno riassunto 40 anni di storia, è un'impresa estremamente ardua, invece per me che vi garantisco nello stesso tempo cercherò di fare la medesima cosa, o meglio parlare per due minuti e mezzo, non certo riassumervi 40 anni di storia, perché sono riassunti qua dietro, Io sono Marco Piamotti, presidente della Ediman, ma penso che questa sera non debba presentarmi, perché ero molto preoccupato su che cosa dire, ma vedo tutti i amici e tutti quegli amici che vedo questa sera sono quelli che ci hanno sostenuto in tutti questi anni della crescita di meeting, per la crescita di meeting e congressi e la crescita anche di tutte le altre nostre attività nella meeting industry.